Allora, purtroppo, cioè io sono felice, però l'indole dell'interista è soffrire fino all'ultimo secondo. Vi ricordate l'anno del triplete? Tante coppe, tante vittorie, però abbiamo vinto lo squadetto all'ultima giornata. Abbiamo sempre sofferto, perché noi siamo destinati a soffrire per tutta la vita, per tutta la vita. Però l'importante era vincere, vittoria arrivata, visto il pareggio clamoroso in casa della Juventus con il Sassuolo, quindi era importantissimo vincere. Questa volta abbiamo sfruttato appieno l'occasione che avevamo, perché la Juve non te ne darà tante per tutto il campionato, quindi c'è il sorpasso, siamo primi in classifica, ma calma, non è cambiato niente, perché non è che siamo 5, 6, 7, 8 punti avanti, che poi non sarete tranquilli nemmeno in quel modo. Siamo un punto avanti, quindi per tutta la settimana, per carità, ci godiamo questo primato, primato meritatissimo, perché facciamo la quinta vittoria consecutiva, mi sembra, mi sembra di sì. Quindi, una vittoria poi, raga, parliamoci chiaro, assolutamente meritata, meritatissima, perché abbiamo giocato meglio della Spal, secondo tempo la Spal è venuta un po' fuori, perché comunque esistono anche loro, non è che giocavamo contro il pizzichetto, giocavamo contro la Spal, che per carità è penultima in classifica, ma è sempre un'ottima squadra, anche perché le squadre di Materasso in Serie A soprattutto non esistono più. Gioi con la penultima, è sempre difficile, sempre, sempre difficile. Infatti la Spal, il primo tempo praticamente non ha toccato il pallone, il secondo tempo è venuta un po' fuori e ha fatto un bel gol Valotti, ma alla fine hanno fatto, credo, un tiro? Forse solamente il tiro di Valotti importa, solo quello. Poi Kurti ci ha sparato per aria, cioè non è che hanno fatto niente. Poi Lautaro si è mangiato, per carità, grande toro, doppietta, ti adoro. Però, cavolo, quei gol lì non me li puoi sbagliare. Davanti il portiere. Poi non è che ha sbagliato, perché non ha nemmeno tirato. Va a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, ti ha presa. Quelle occasioni non vanno assolutamente sprecate. Mai nella vita. Di lì prova, tira, poi ti va fuori, prendi palo, te la para, amen. Però hai tirato. Staremo qui a dire che ti sei mangiato un gol. Così proprio te lo sei divorato in una maniera catastrofica, perché non hai nemmeno tirato. Non hai nemmeno tirato. L'errore è più clamoroso che se avessi sbagliato. Però è importante vincere. Lukaku, buona prestazione. Anche Lautaro grandisce la prestazione del Toro. Siamo un po' scomparsi tutti, diciamo anche per la stanchezza. È venuta fuori la stanchezza. È venuta fuori le mancanze di Barella. È venuta fuori la mancanza di Sensi. Purtroppo Vessine e Gagliardini sono buoni giocatori, ma non rimediano le assenze importanti che ha il centrocampo. Purtroppo la verità è questa. C'è poco da fare. A noi Sensi, Barella soprattutto, più di Sensi, ci manca troppo. I due pilastri del nostro centrocampo di quest'anno si sono fatti male tutti e due. Questa è sfortuna. Vessino e Gagliardini tamponano un po', un po', tamponano. Però non ti fanno la differenza. Gioca, non fanno il loro gioco normale. Ti fanno una partita da sei, cinque e mezzo, sei. Non ti fanno la prestazione da sei e mezzo, sette, che facevano Barella e Sensi. Questa è la verità. Però va bene, l'importante era vincere, l'importante era portare tre punti a casa, l'abbiamo portati. L'importante era vincere perché la Juve ha pareggiato col Sassuolo, clamorosamente non ha fatto lo scansuolo. Questo è abbastanza clamoroso, visto che ultimamente il Sassuolo si scansava sempre. Poi però oggi ha fatto un partitone il Sassuolo, partitone. Quindi grandi ragazzi, abbiamo sfruttato l'occasione benissimo. Benissimo, adesso venerdì abbiamo la Roma, partita difficilissima, difficilissima un'altra volta in casa. La Juve va a Roma con la Lazio, altra partita difficilissima. Giochiamo di venerdì qui, giochiamo prima, non so se è un vantaggio o uno svantaggio. Però comunque, sempre con la cattiveria, la garra che abbiamo avuto in queste partite. Sempre così. E niente, io vi saluto. Non penso non ci sia altro da dire, se non che più o meno è stata una buona prestazione da parte di tutti. Magari Lazaro un po' meno. Il primo tempo ha fatto qualcosa di buono, però non è che si è visto particolarmente tanto oggi nella partita. Poi per il resto D'Ambrosio ha sbagliato tanto, però ha fatto anche qualcosa di buono. Più o meno dai tutti da sei, non vedo insufficienza. Secondo me il migliore, ovviamente il Toro Martinez. Però per come ha giocato, a me mi è piaciuto tantissimo Brozovic. Oggi secondo me Brozo ha fatto un partitone. Recupera palloni, in posta, un playmaker. C'è veramente tanta tanta roba Brozovic. Niente, vi saluto. Sembra e forza Inter. Ci vediamo venerdì, penso. A meno che non mi venga a mettervi a fare video, ma non credo. Siamo venerdì per il post partita di Inter-Roma. Speriamo felice come questo. Sembra e forza Inter. Primato raggiunto, ma ancora la strada è lunghissima. Però intanto ce lo godiamo. Intanto ce lo godiamo. E penso che se lo godono pure tutti gli amanti del calcio, visto che se non era veramente per noi, sto campionato era già chiuso. Sembra e forza Inter. Amala.